Siete pronti per sentire il meglio della nuova scena? The time has come! Viva! Rolls-Pinners! Junior! In palio ci sono 100.000 euro. Siamo tornati nelle città in cui abbiamo iniziato. È il sogno che ho da quando sono ricassino, da quando sono nato. Il rap parla di dolore, può parlare di strada. Metto il beat, alziamo il microfono e lappo. Ok, let's go. Ci siamo fatti aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano. Con chi passa ci rivedremo a Milano per le fasi finali. Fademi un po' di casino! Per vedere se tu emergi. Senza pietà. Dovrete realizzare un videoclip. Questa è la vostra ultima possibilità, voglio. Per perdere non è l'opzione. Hai spaccato tutto. Ti è bloccato completamente. Posso dire una cosa? No, hai già arrezzato. Questa bro è una gara. Questa è la nuova scena.